Ciao! Oggi vedremo come realizzare la tripla maglia alta. Allora, prendiamo tre volte il filo, quindi una, due, tre, andiamo nella maglia desiderata, prendiamo il nostro filo e lo facciamo passare una volta, lo riprendiamo, passiamo sotto a due archetti, quindi siamo così, lo riprendiamo, passiamo sotto a due, lo riprendiamo, passiamo sotto a due e andiamo a chiudere. Adesso lo rifaccio, allora, prendiamo tre volte il filo, tre, andiamo nella maglia desiderata, prendiamo il filo e lo portiamo in avanti, prendiamo il filo, lo portiamo in avanti, lo riprendiamo, lo portiamo in avanti, lo riprendiamo, lo riportiamo e di nuovo, e chiudiamo il nostro lavoro. E questo è il risultato finito. Spero vi sia stato utile, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!